Noi siamo naturalmente sempre molto preoccupati per il quadro internazionale ed europeo in cui si collocano gli andamenti della nostra economia. Stiamo vivendo un breve ritorno di clima piuttosto invernale anche sui mercati che speriamo possa essere rapidamente superato. Eccoci qua, buongiorno, bentrovati, bentornati al Coffee Break. Abbiamo aperto con le parole del Presidente Napolitano, il quale, Enrico Vaime, buongiorno, parla di questo clima invernale. Siamo sull'ottovolante, non abbiamo mai smesso in realtà, però diciamo ce ne siamo accorti di più di questo nervosismo dei mercati martedì. C'è stato questo nuovo martedì nero, la borsa che ha perso il 5% a Milano, è andata peggio di tutte le altre borse. E poi c'è il tema dello spread. Io qui volevo arrivare, lo so che ti piace. Molto. Allora, lo spread che torna a salire. Adesso di nuovo siamo lì che contiamo i numerini, è salito di quanto? È colpa, ti chiedo, della Marcegaglia o è colpa della Spagna? Tutte e due. Adesso qui stiamo scherzando, cerchiamo di alleggerire un attimo. Due cause vere, diciamo. No, forse no. Vorremmo provare a capire questa mattina appunto perché siamo su questo ottovolante e poi in che cosa questo ottovolante è diverso da quello che per esempio ha fatto cadere il governo Berlusconi, perché ce lo ricordiamo tutti, era novembre e insomma lo spread ad un certo punto era salito oltre il 500 e tutti ci siamo detti, no no, o meglio, ci hanno raccontato che così non poteva andare e quindi bisognava mettere mano. Abbiamo messo mano e poi adesso è tutto uguale, tutto diverso. Ovviamente noi non abbiamo la risposta, ma speriamo ce l'abbiano gli ospiti. Ti do il buongiorno a Giuseppe Di Taranto, che certamente ce l'ha perché è un economista, insegna all'Università Luisa di Roma. Buongiorno, benvenuto a Cosi Break. Sicuramente ce l'ha una risposta anche qui d'Alberto Guidi, che è il presidente di Ducati e Vergine, è stato vicepresidente di Confindustria. Un po' è colpa della Marcegaglia. No, non credo proprio. Io ho sempre attribuito molto potere alla Confindustria. Io nasco, ma non proprio questo potere. Buongiorno a Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero e collegato con noi da Milano. Bentornato a Coffee Break. Buongiorno, grazie. Paolo Sottocorona, Napolitano si è messo a fare il tuo mestiere. Tu fai quello di Napolitano, ognuno il suo. Buongiorno anche a te, buongiorno Vaiman. Buongiorno. Insomma, va bene, l'hospedale valla, il mercato fibrilla, la borsa pure e noi siamo abbastanza agitati. Questa è la situazione in questo inverno dell'economia, questo ritorno di maltempo, di stagione rigida. E ora, Monti ci ha dato una specie di spiegazione impropria e alleggerente della situazione. ha detto, lo leggo perché è molto involuta come frase, però suggestiva, c'è una piccola componente psicologica che complica la nostra quotidianità. Eh? Insomma, che avrà voluto dire? No, io ho capito cosa voleva non dire, che è molto più importante di quello che effettivamente ha detto. E effettivamente siamo molto agitati. Ora, anche perché eravamo convinti di essere fuori dal momento difficile. La Grecia era quasi svanita all'orizzonte e all'improvviso ha comparto, ah, olè, e Spagna. Ma come? Non si può stare mai tranquilli un attimo. Ma poi anche questi consiglieri non interpellati, volontari, diciamo, spontanei, sono evidentemente una caratteristica di questo periodo della nostra crisi economica. Perché prima ci hanno dato dei consigli e qualcosa in più la Germania, la Francia, adesso persino la Spagna. Ora, non voglio dire, ma forse... Non ti è piaciuto, eh? No, perché l'ultima frase irritante viene dal governatore del Banca Centrale Spagnola. Bordognes, questo nome da Torero morto. Vabbè, insomma, qualcosa dovrò dire pure io a questo Ordognes che non avevamo avuto il piacere. E ha detto una cosa molto irritante, che creiamo ansia. La nostra presenza sui mercati crea ansia. Non abbiamo credibilità, dice. E ci rinfaccia il nostro spread. Che quando è avvenuta questa esternazione era intorno a 404, come era ieri. Poi è calato. Signora Ordognes, mentre lei ci riedarguiva il suo spread personale era 433. Allora, ognuno si faccia gli spread suoi. Gli spread suoi. Gli spread è un termine che ci riempie di forza, perché sta tra la pernacchia e la rafica. Però Monti l'aveva provocata. Adesso io non voglio difendere. Sì, l'aveva provocata, va bene. Aveva detto che scontavamo le difficoltà di Madrid. Loro si sono un po' innervositi e hanno risposto. E poi, tra l'altro, i rapporti con la Spagna. Tu ti ricordi che Prodi e Zapatero non si pigliavano. No, 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 discutevano tra loro su chi era più ricco, se era più ricca l'Italia o più ricca la Spagna. Adesso discutiamo su chi è più pezzente, diciamo. Sì, la diatribe è più o meno quella. Comunque, dalla Spagna viene questa rampogna. Anche da noi, la Marce Gaglia, che è la Presidente, per quanti si fossero messi l'ascolto solo adesso, è la Presidente della Confindustria in scadenza. E dice che basta, che non si va avanti così, che non approva la riforma del lavoro. Ma questi sono diversi, non è solo. In buona compagnia, diciamo. Non l'hanno abbandonata. E poi c'è una pressione fiscale, paralizza i nostri mercati. Signora Emma, non ci sono soldi. Come si può dire? Se non ci sono soldi, non ci sono per noi cittadini e anche per la Confindustria e i suoi autorevoli rappresentanti. Che vogliamo fare? Ora, lo spread colpisce chiunque. Non è che guarda in faccia nessuno. Noi facciamo i disinvolti e usiamo questo termine così rullante e perentorio. Ma voglio dire, io sono andato a vedere la definizione perché, come penso molti di voi che ci state seguendo, i miei dubbi ce l'avevano. E ho trovato questa definizione. Lo spread e la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato italiani è quello delle obbligazioni di altri paesi. Eh? E adesso davanti vi si avverete un mondo. Però questa è la definizione. Voglio dire, sono dettagli che forse possiamo anche non approfondire. Rimane il fatto che stiamo affrontando un problema grave, anche perché lo spread è talmente ballerino. Per cui, ieri era arrivata a 404 punti base e poi è scesa a 370. A gennaio era a 531, a marzo 278. Calma, calma. Perché così non siamo più in grado di seguire. Dateci delle dritte. Si chiamano montagne russe. Non voglio avallare la tesi della componente psicologica ansiosa attribuitaci da molti. Però, insomma, siamo vicini. Ora, siamo in difficoltà. E secondo i tecnici stranieri, noi, gli osservatori, dicono che non è accattivante la proposta del mercato italiano per gli investitori stranieri perché siamo un paese, l'ho letto ieri e sono rimasto molto male, poco prevedibile. Hai capito? E quella è la forza del nostro turismo. Vengono perché siamo poco prevedibili. Chissà che succederà. Chissà, ma andiamo lì, mamma mia. Quindi, il turismo si giova. L'economia no. L'economia no, l'investimento no. Ora, gli investimenti stranieri sui quali noi, appunto, luogo turistico contiamo per sopravvivere. Non devi essere poco prevedibile. Invece ti hanno fatto sapere che è un difetto, pensa. Assolutamente, ma pensa un po'. Ora, gli investimenti stranieri, se sono veri questi dati, in Italia sono bassissimi. È l'1,4%. E è anche calato. E mentre la media europea, degli altri paesi, è il 3,3%. La riforma del mercato, che è stata fatta per invogliare gli investitori a investire da noi, sta vivendo delle grandi difficoltà all'interno e anche all'esterno. Ora, non piace a nessuno. Eppure sono stati fatti dei passi, secondo me, notevoli per rendere più accattivante questo mercato. Tutto è mercato, avete fatto caso. Che strana cosa. Si parla del mercato del lavoro. Ora, il lavoro è un'attività che va a premiare il merito, che nobilita. E il mercato, come fosse del pesce, andiamo al mercato a offrire il lavoro. È brutta, come difesa, però è un fatto, è un dato. L'economia non guarda a faccia a nessuno. Allora, quindi il mercato del lavoro, con queste proposte di, per esempio, di accettare i licenziamenti per motivi economici, l'introdurre l'apprendistato, insomma, sono state fatte delle concessioni al capitale che poteva benissimo venire da noi. Non basta. Non è sufficiente. Questa riforma del lavoro in corso d'opera non piace a molte forze politiche che sorreggono il governo, Monti, e non piace neanche, evidentemente, agli stranieri. Quindi, insomma, la situazione è questa. Ci si impoverisce. I mercati entrano in crisi, calano i consumi, non ci sono soldi. Signor Ordonez, forse ha ragione lei, ma chi lo sa, voglio dire, entonces, qui, non tenemos di nero. E' un brutto momento. Cerchiamo di non darci fastidio, noi straccioni, scusi, se l'ho inglobata in questa committiva, in questo pullman dove ci sono greci, irlandesi e, vedrai, portoghesi, insomma, siamo tanti, e andiamo verso il default. O no? No. Speriamo proprio di no. Speriamo di no e speriamo di tirare avanti, di superare questo momento così difficile e di mostrare a questi osservatori che ci danno consigli non richiesti, che in fondo potremmo forse farcela da soli. E comunque, da soli sappiamo piangere bene. Non ci abbiamo bisogno di... Quello, devo dire, siamo attrezzati parecchio e, peraltro, anche alcuni ministri, quindi siamo sereni. Allora, io partirei da la domanda delle domande. Poi vi faccio vedere un riassunto delle puntate precedenti. Ma il dato è questo, no? Abbiamo detto che siamo un po' sull'otto volante, al di là delle critiche della Spagna, al di là delle rassicurazioni di Monti, che pure ha detto, insomma, sangue freddo, non sta succedendo nulla di particolare. Però, di fatto, noi continuiamo a vedere questo spread che sale e scende, in alcuni momenti sale molto, al punto che, diciamo, Marte di Nero. In che cosa è diverso quello che sta accadendo da quello che accadeva soltanto sei mesi fa? Perché poi ci sembra una vita fa, ma sono solo sei mesi. Prego, professor Di Taranto. Guardi, anzitutto un grazie per l'intelligenza, devo dire, l'ironia con cui ho ascoltato prima descrivere temi che sono tragici, ma che veramente sono stati esposti in una maniera gradevolissima. Allora, le posso dare immediatamente un dato che credo sia particolarmente interessante. È stata fatta la media tra i giorni in cui c'è stato il governo Monti e quelli precedenti del governo Berlusconi. La media dello spread, questa famosa parolaccia che abbiamo imparato a conoscere. Ovviamente a parità di giorni, quindi si aggiunge un giorno in più per Monti, se ne aggiunge un giorno in più per Berlusconi. Questo è il grafico che lei ci ha mandato, lo stiamo vedendo. Ecco, allora, tenga presente che a tutt'oggi, a parità di giorni, lo spread del governo Monti, ahimè, è superiore ancora di 75 punti rispetto ai giorni del governo Berlusconi. Aspetti però, a parità di giorni mi spieghi bene, perché cosa stiamo comparando? Non vorrei fossero mele e pere, ha capito? Hanno calcolato, hanno calcolato. Monti, se ricordo bene, è arrivato il governo il 16, il 17 novembre. Novembre. Allora, da quel giorno, lo spread fino ad oggi, che media ha avuto? Diciamo che sono 140 giorni? Sì. E quali 140 giorni abbiamo preso di Berlusconi però? I precedenti, cioè dall'ultimo giorno del governo Berlusconi ad andare indietro. Ad andare indietro di 140 giorni, di modo che nessuno potesse dire abbiamo scelto quelli più buoni, diciamo. No, quelli erano brutti forti, perché sono quelli che l'hanno fatto cadere. Anzi, erano i peggiori. E certo. Erano i peggiori, quindi questo anzi va sottolineato. E ancora oggi noi siamo oltre i 70 punti in più di media col governo Mondi. Teniamo anche presente... Ma professore, c'è una cosa che contraddice tutto quello che noi sappiamo. Guardi, sono dati di fatto, ma teniamo presente una cosa che secondo me è ancora molto più importante, ecco, che in realtà nei primi sei mesi del 2011, quindi prima della famosa crisi di giugno, agosto, eccetera, lo spread si manteneva sui livelli di 130-140 e quello era il livello accettabile di sempre per l'economia italiana. Quando oggi noi parliamo anche di 300, non arriviamo ai 400, noi siamo comunque... E' già un livello che era considerato pericoloso quando eravamo a 130, no? A questo livello pericoloso, noi tenga presente che noi paghiamo ogni anno circa 80 miliardi di interessi sul debito pubblico. Allora, la fermo solo un attimo, e fermo anche qui di che vedo vuole intervenire. No, volevo... Ma lo commentiamo il grafico, lo commentiamo. Però prima vi voglio far vedere, diciamo, il riassunto delle puntate precedenti, fino a martedì. Lo vediamo insieme, poi voglio sentire anche l'opinione di Manzoni. È volato il famoso spread, altro che superare quota 500, ha superato 510, 520, 530, è arrivata con un balzo a 550 la forbice tra i nostri buoni del tesoro decennale e Bund tedeschi, fino ancora più su. Borsa di Milano e titoli pubblici italiani sotto attacco, Piazza Affari perde il 3,7%, spread record, volano i rendimenti dei BTP. Il Napolitano nel pomeriggio aveva chiesto di fare in fretta per tranquillizzare i mercati a breve nuovo governo o voto. Gran parte del PDL e la Lega insistono, elezioni dopo dimissioni Premier, PD e Terzo Polo spingono per esecutivo d'emergenza. Alle 20.30 Berlusconi al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato. Da domattina le consultazioni e già in serata, forse addirittura nel pomeriggio di domani in carico a Monti a presentarsi lunedì all'apertura dei mercati con la crisi in via di soluzione. Voi sapete che oggi, ieri e oggi, aste di emissione dei buoni del tesoro sono andate piuttosto bene, questo è incoraggiante, ma non consideriamo assolutamente terminate le turbulenze finanziarie. Non è un obiettivo raggiunto perché deve scendere ancora e scenderà. Dobbiamo aspettarci che questa variabile che ha polarizzato forse anche troppo l'attenzione di tutti, ma che comunque è importante, sia un po' oscillante, ma la tendenza credo proprio che sarà decrescente. Dopo la pausa di Pasqua, martedì nerissimo per le borse europee, tutte in negativo, ma peggio di tutte Milano. Piazza Fari affonda e perde il 5%, trascinata dai titoli bancari in picchiata. E lo spread schizza su fino a quota 400. I buoni spagnoli vanno peggio, ora in Europa legge allo spettro del contagio spagnolo. E allora, abbiamo finito col martedì nero, Guidi voleva commentare intanto il grafico. Volevo rivedere il grafico del professor. Lo vediamo, lo rivediamo, chiedo alla regia. Però intanto lei se le ricordava quelle prime pagine, quei titoli, no? E lei pensava che fossimo fuori sì o no? No, mai. Mai, mai. Ma lei perché è pessimista? Però un pochino ci avevamo creduto. Il pessimismo dicono che è una forma mentale che serve anche a evitare. Quello è un grafico interessantissimo, anche perché mette in luce una cosa che nessuno aveva notato. Quindi è originale. Però se il professore non si offende, conferma un vecchio detto. Ci sono le piccole bugie, le grandi bugie e le statistiche. Non perché sia sbagliato, è correttissimo. Se però voi guardate, è diventato una montagna. Da una parte c'è il crinale dove si sale e dall'altra dove si scende. In queste cose il professore potrebbe tenersi una lezione. Quello che conta è la tendenza, quello che si dice il trend. Cioè, andiamo per ipotesi, ma quelle 500, credo, che sia stata la punta massima, 540, avrebbe potuto diventare 800, 900, 1000. Lei esclude che potesse essere uguale il grafico se le cose non fossero cambiate? E la tendenza, la media indubbiamente. Se il professore avesse fatto la media del periodo precedente, magari con qualche giorno, settimane in più, la media sarebbe scesa ancora, perché eravamo a 120, 130, è vero il professore? Cioè, non è il punto di arrivo. Il problema è la tendenza. Però, Guidi, mi spieghi questo. Lei esclude che quel grafico potesse essere identico se nulla fosse cambiato? Mai dire mai. Mai dire mai. Io dico che... No, perché questa è una delle domande, no? Io dico che sono... Secondo me il punto era... Io non sono il fan... Modifichiamo tutto l'assetto, perché quel grafico è così, la prima parte del grafico, e allora ci domandiamo come sarebbe stato... A mio giudizio il Presidente Berlusconi si è rimesso con molto senso dello Stato, perché quella roba lì poteva essere... ecco, non ci stava più lì sopra. Non ci stava più. Avrebbe potuto andare. Anche però si era detto che le sue dimissioni sarebbero valse, non so, 200 punti di spread. Dico correttamente, professore? Sì, sì, la premessa che è fondamentale, ma non per me, per il grafico. Allora, il grafico non è mio, è di free online, solo. No, no, ma tutti noi l'abbiamo giudicato molto interessante. Però è una cosa nuova, però devo dire che è interessante perché, giustamente, il dottor Guidi parla di tendenza. Beh, ma se noi andassimo a vedere la tendenza precedente, visto che poi la storia non si fa con i sé e con i ma, noi partiamo da livelli molto più bassi. In realtà sono passati cinque mesi, no? Dal governo Monti e questo spread è ancora alto. E se ricordo bene, se ricordo bene, quello si ferma al 5 aprile, se ricordo bene. Quindi non c'è il martedinero. Che significa che non ci sono neanche i martedinieri. La verità, dottor Guidi, a mio avviso, le ripeto che non sono un autore di questo grafico, non voglio prendermi... No, 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 nel senso meriti che non sono miei, meriti che non sono miei. La verità è che, guardi, io sono convinto, e l'ho ripetuto più volte, che non c'è governo di centro, di destra o di sinistra che possa fermare la speculazione internazionale. Oh, benissimo, adesso ci arriviamo al punto della questione che è proprio questo. Però prima volevo sentire anche De Manzoni. Sia sul grafico, sia su quella ricostruzione per immagini che abbiamo fatto, no? Che ci ha un po' rinfrescato la memoria, rispetto all'altalena. Guarda, per un giornale come il mio, che si è opposto al governo Monti, direi fino al primo minuto, sarebbe fin troppo facile marammaldeggiare. Invece vorrei fare un discorso un po' più serio, che stava iniziando a fare il professore. Perché è questa la verità. Noi ci siamo sempre baloccati con l'idea che bastasse togliere Berlusconi, metterci Monti e avremmo risolto i nostri problemi. Non è così, non poteva essere così, non era una cosa seria pensarlo. Anche se ce l'hanno fatto pensare, la tua sorpresa prima, quando ti hanno mostrato il grafico, deriva dal fatto che c'è stata una copertura mediatica assolutamente indecente, secondo me, per certi versi, che ha ammantato tutta la prima parte del governo Monti, di questa bambagia, nella quale sembrava che tutto andasse bene, che nuotassimo tranquilli e sereni verso l'uscita dai gorghi. Invece non è così, non poteva essere così. I nostri problemi sono di due tipi. Il primo tipo è internazionale, cioè siamo sottoposti alla speculazione, e siamo sottosposti alla speculazione perché c'è un problema di governance europea, cioè non abbiamo le capacità, la possibilità, con questa struttura d'Europa, di governare la moneta, come fanno gli altri paesi. La speculazione ci viene a colpire. Colpisce poi chi? I paesi più deboli. Quali sono i paesi più deboli? Quelli che hanno più debito pubblico, che hanno un'economia meno forte. E qui subentra il governo nazionale, cioè la parte che può fare, che è abbastanza piccola secondo me rispetto alla parte europea, ma comunque la parte che può fare il governo nazionale. E qui abbiamo il fallimento del governo Monti. Abbiamo il fallimento del governo Monti nel senso che è partito con tutte le possibilità di agire come un governo commissariale e fare cose serie, utili e necessarie. E cosa ha fatto? Ha fatto una riforma delle pensioni buona secondo me. ci ha caricato di tasse, e questa è la parte negativa della faccenda, e poi si è impantanato in giochetti politici. Siamo arrivati al punto che ha mediato su tutto quanto. Siccome la componente psicologica di cui parlava prima, vai sui mercati, il professore lo potrà confermare meglio di me, c'è ed esiste. I mercati cosa hanno fatto? Hanno dato un'apertura di credito a Monti. Hanno aspettato di vedere cosa faceva, ma adesso si sono resi conto che al di là delle parole c'è poco e hanno ricominciato a bastonarci. Questa è la soluzione. Allora, teniamo distinti i due piani. Lo propongo come schema di ragionamento. Da una parte l'Europa, quindi il piano più grande, e dall'altra il governo Monti, è quello che noi stiamo facendo a casa nostra. A proposito di Europa, leggo e chiedo al professore di spiegarci il senso delle agenzie che stanno arrivando. Parla la BCE e dice le condizioni nei mercati del lavoro dell'area dell'euro continuano a deteriorarsi e le indagini congiunturali anticipano un ulteriore peggioramento nel breve termine. Ancora, sempre la Banca Centrale Europea dice l'aumento degli spread di Italia e Spagna nelle ultime settimane si è verificato sullo sfondo di una riconsiderazione delle prospettive per la crescita nell'area dell'euro. che nel complesso la fiducia dei mercati obbligazionari non ha recuperato completamente. E finisco, questa a me sembra la peggiore, ma magari mi sbaglio. L'Italia, ma anche la Francia, il Belgio, la Grecia, l'Olanda, il Portogallo e la Spagna, quindi l'elenco è bello lungo, presentano per il 2012 un fabbisogno di rifinanziamento pubblico particolarmente rilevante e superiore al 20% del PIL. Lo rileva appunto la BCE valutando le vulnerabilità a un clima di fiducia negativo e a effetti di propagazione avversi. A me sembra una mezza condanna, però non lo so, chiedo a lei. No, sempre. No, è una condanna totale, lei dice. Me l'ha un minuto per rispondere? Ma sì. Allora. Poi magari la interrompo se non capisco, però io lo do il minuto. Il vero problema dal quale dipende anche la crisi non soltanto dell'Italia, ma come giustamente diceva il Vice Direttore, di tanti paesi europei. Cioè noi del problema Europa non parliamo mai. Lei pensi che l'80% delle nostre leggi serve soltanto all'attuazione dei decreti europei? Allora, uno, mi permette di dire le cose così come le scrivo e le penso. Il trattato di Maastricht è nato non male, ma malissimo. Su 12 paesi nel 1992, tra l'altro stranamente non si festeggia nulla quest'anno, perché sono i 20 anni del trattato di Maastricht e sono i 10 anni dell'euro, ma stranamente, perciò le dico, stranamente, quindi è un eufenismo questo stranamente, non si festeggia niente. Bene, lei pensi, su 12 paesi, su 12 paesi, 5 erano fuori dal famoso 3% dei decreti europei e 4 non avevano le condizioni per entrare. Non rispettavano una delle due condizioni fondamentali e 4 non rispettavano l'altra del debito. Quindi sono 9 paesi su 12 che non rispettavano i parametri fondamentali per entrare a Maastricht. E noi non li abbiamo fatti entrare, invece sì. Questo era al 31 dicembre del 91. Il 7 febbraio 92 viene approvato il trattato di Baastricht come se nulla fosse stato. Perciò parto da lontano. Al 97, dopo varie revisioni, bisognava decidere chi potesse avere la famosa moneta unica. Bene, eravamo arrivati a 7 e 9 paesi, perché molti cumulavano entrambe le cose. Tranquillamente abbiamo fatto la moneta unica come se nulla fosse stato. E c'erano 7 paesi. Lei dice che non avevano le condizioni. No, no, no. 7 e 9. 7 e 9. Ci sono studi specifici. 7 che non andavano bene. Che non potevano entrare. Erano 7 e 9 perché alcuni cumulavano sia un debito superiore al 3 sia un debito superiore al 60. Professore, mi dà una risposta. Mi dico. Siamo masochisti o cosa? Ecco, no. Tuteliamo molto spesso solo i grandi interessi invece che quelli dei cittadini come in Italia dove c'è un articolo della Costituzione che non ci permette di votare sui trattati internazionali. Noi non abbiamo mai votato su queste cose mentre in quasi tutti gli altri paesi si vota adesso anche sul fiscal compact come sa alcuni paesi hanno detto prima di aderire votiamo. Noi abbiamo aderito completamente al fiscal compact. Ma mi perdoni e chiudo questo discorso perché secondo me è piuttosto interessante e poco noto. E poco noto. Quindi abbiamo fatto una moneta unica di fatto su elementi che erano inesistenti che non rispettavano il trattato di Maschi ma abbiamo fatto di peggio. Perché poi abbiamo dato una interpretazione che era la seguente siccome era il debito e ce ne stiamo accorgendo adesso il punto fondamentale il punto più debole dove ci vuole più tempo per recuperare allora abbiamo dato un'interpretazione dell'articolo 109 dicendo il debito è meno importante ciò che dobbiamo rispettare è il deficit il 3% e allora non contenti cosa abbiamo fatto? C'è uno studio dell'Ocse non mio abbiamo falsificato i dati sulla convergenza del 3% l'Austria vi dedico cose che a noi sono ben note e forse grave che non siano noti a tutti aveva un deficit del 6,2 dopodiché lo Stato ha creato una società autostradale e ha passato il 3,2 del deficit da quella società e quindi anche l'Austria non parlo dell'Italia così non abbiamo problemi politici è entrata tranquillamente e la Grecia dopo sei mesi è stata tranquillamente accolta allora perché ora ci lamentiamo dei debiti pubblici? mi dice il nome di un paese a caso che aveva interesse che tutto ciò accadesse? ma proprio a caso guardi le spiego subito anche perché inizia con la G e finisce con l'Ermania le do due dati le do due dati guardi da quanto tempo si diceva anche quella che ho definito una brillante intelligente introduzione no? si sta parlando di crescita e da quanto tempo Monti dice la cosa fondamentale è la crescita 12 paesi su 17 hanno firmato un documento sulla crescita nessuno nessuno ha citato questo documento o lo ha preso in considerazione due punti mi perdoni questi sono importanti se non ci fosse stato l'euro il marco si sarebbe rivalutato del 40% le comprende bene per le esportazioni tedesche questo cosa significa due ci hanno sempre fatto il lavaggio del cervello guardi per anni non si è potuto criticare l'euro a torto perché se avessimo corretto prima certe cose ora non saremmo in queste condizioni e ci hanno sempre detto finalmente non possiamo fare più le svalutazioni competitive e questo è il grande vantaggio della Germania perché lo status quo è l'unica cosa che agevola la Germania mi perdoni no questa me la devo far dire no no io la faccio dire dopo Guidi come se ne esce no davvero perché la dinamica ci pare talmente tanto più grande di noi e ci sembra talmente tanto una situazione nella quale contiamo poco pochissimo che francamente non si vede l'uscita dal tunnel parzialmente cerco di rispondere ma l'esposizione fatta dal professore è ineccepibile volevo tornare un attimo sul discorso Monti l'Europa il governo Monti è stato messo lì con il compito a casa già identificato c'è anche il titolo è la lettera della BCE che sta applicando tutti i vari punti i famosi punti il professore ha detto devi fare questo 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 e questo ripasta le tabelline e sta facendo proprio quello ci manca solo questo è direi che la prima funziona con una malanga di tasse addosso e il punto è ne usciamo o non ne usciamo con questi compiti a casa il professore diceva la Germania ha avuto i vantaggi ci promuovono oppure no sono d'accordissimo con lui però non vorrei dimenticare che 4, 5, 6 anni fa non ricordo esattamente la Germania ha fatto una trasformazione molto forte del proprio sistema di welfare delle retribuzioni del pubblico impiego ha delocalizzato milioni di posti di lavoro quindi ha fatto forse qualche anno prima di noi la ragione fondamentale oggi ed è poi il tentativo anche di rispondere i mercati internazionali questa entità così abbastanza evanescente ma molto concreta non si fidano di tutta l'Europa perché ritengono secondo me giustamente che noi non potremmo più mantenere il nostro tenere di vita se non massacrandoci di tasse come facciamo oggi il tax rate per un'azienda quindi la tassazione sull'utile di impresa di un'azienda oggi è arrivato mediamente al 60% questo perché non è l'aliquota marginale è che cosa si considera spesa se ci si aggiungono poi tasse varie comunali eccetera io credo che nessuno sanno di mente non c'è bisogno di pensare ai mercati internazionali possa pensare che con questo livello di tassazione sulle famiglie sulle imprese si possa pensare di fare non dico crescita ma non si possa entrare in un periodo di stagnazione o di depressione drammatico quindi noi abbiamo pochissimo tempo lo vediamo anche dal sistema delle imprese se io dovessi su un sistema di assi cartesiani come era identificare il sistema delle imprese lo farei anch'io come quella montagna una piramide nella cuspide ci sono aziende che negli ultimi dieci anni hanno investito in ricerca e sviluppo hanno alzato quindi l'asticella del contenuto tecnologico dei loro prodotti si sono multilocalizzate per cui sono entrate su nuovi mercati e producono anche mercati dove il costo di lavoro è molto inferiore le condizioni diciamo usiamo un termine più generale rispetto all'Europa occidentale quindi sono meno soggetti alla competizione dei paesi low cost ecco queste aziende stanno crescendo del 20-30% quante sono? io non lo so 100 1.010 non lo so quante possono ce ne sono però ce ne sono tante altre che sono in serie difficoltà secondo me sta correndo il rischio di uscire completamente dal mercato sommando le due ipotesi le due condizioni difficoltà dei mercati crisi perché oggi il portafoglio ordini di tutti i sistemi delle imprese in tutta Europa sta calando non è una parte di ripresa terzo il mercato europeo è un mercato saturo noi non abbiamo più la capacità di assorbire questa massa di prodotti che teoricamente saremmo in grado quindi dobbiamo inevitabilmente uscire su mercati nuovi nei mercati nuovi quei prodotti hanno cominciato a farli come noi se non meglio di noi e a prezzi che sono poi entrati in un supermarket di elettronica di consumo io vorrei che qualcuno mi dicesse chi ha un frullino un televisore un telefono di una marca italiana fatto in Europa l'ultimo Philips certo allora voglio leggervi due punti di una lunga intervista che trovate questa mattina sulla Repubblica al Nobel Joseph Stiglitz spero di aver detto bene due punti perché mi sembrano davvero interessanti il primo a proposito di quello che sta succedendo in Italia e un'Europa dice ricorda un po' il Medioevo quando il paziente moriva si diceva che il medico aveva interrotto troppo presto il salasso che il paziente aveva in sé ancora troppo sangue con questa cura sono stati trattati per decenni molti paesi emergenti iperindebitati e spesso la cura è stata letale ora sussiste il pericolo che in Europa si ripeta qualcosa di analogo e ancora dice la banca rotta degli stati è parte del capitalismo moderno il tentativo di evitarla è stato il grande problema per l'Unione Europea voglio sentire De Manzoni e poi il professor di Taranto e beh soprattutto la prima il salasso ti vede d'accordo diciamo assolutamente assolutamente ci stiamo ammazzando ci stiamo ammazzando per inseguire parametri che come dimostrava prima il professor di Taranto sono primo aleatori perché le carte vengono cambiate in corsa a piacere il trucco che si riferiva all'Austria è stato usato anche della Germania tanto per non andare lontani ma e poi perché la crescita non si fa in questo modo la crescita si fa distribuendo un po' di ricchezza in giro quella poca che c'è sicuramente ma se la togliamo se la prosciughiamo l'economia si ferma non è che ci siano invenzioni nuove da fare quindi il problema nostro qual era? quello del debito pubblico Monti cosa doveva fare? abbattere il debito pubblico aveva delle possibilità per farlo nel senso che noi abbiamo un grandissimo patrimonio pubblico oltre che una spesa pubblica enorme bisogna andare a incidere in quelle due direzioni invece abbastonato le famiglie le imprese cioè cominciare a vendere i gioielli di famiglia per capirci certo anche questo metterle magari in una holding e quotarla ci sono varie forme di cessione invece che parlare di svendita però c'era da mettere mano anche al patrimonio pubblico sicuramente oltre che agli sprechi pubblici una cosa che io non ho mai capito per esempio si parlava prima spending review e sono anni che studiano la spending review razionalizzare la spesa ce l'hanno spiegato in tutti i modi ma non abbiamo capito ancora come si farà se si farà mai però una cosa c'era ed era già quasi pronta con il governo precedente ed era i costi standard della sanità che in questo paese è una voragine poi stava accelerare su quello si sapeva che si sarebbero ricavati miliardi di risparmio strutturale perché era tutti gli anni cioè spalmato per tutti gli anni e invece hanno abolito il federalismo per ragioni quasi ideologiche mi pare di capire perché quello era un pezzo di federalismo io veramente certe cose non le ho capite il costo standard merita una puntata perché poi c'è chi dice sì ma prima mettiamo lo stesso tipo di lettino a Milano e a Canicati perché insomma trovi ancora il lettino arrugginito a Canicati e invece il lettino mirabilante che si alza da solo e cammina a Milano e allora prima mettiamo tutti nelle stesse condizioni ma questa è un'altra storia professore le chiedo io capisco che è complicato dare la ricetta e magari non ce l'ha però un suggerimento per uscire da questo tunnel perché ci sembra davvero un tunnel ci sono due livelli il primo quello più importante ecco perché è necessaria una governance europea che manca completamente tra l'altro a me qualcuno dovrebbe spiegare chi l'ha attribuita alla Germania e prima ancora alla Germania alla Francia visto che c'è un consiglio europeo quale mandato hanno avuto ma al di là di questo sono due livelli il primo è internazionale la credibilità ci deve essere data dall'Europa udita non da singole nazioni dell'Europa quando parlo di livello internazionale non dimentichiamo mai noi parliamo sempre troppo dell'Italia e troppo poco del mondo globale mi perdoni ma le agenzie di rating quando noi parliamo di speculazione di mercati ma siamo noi noi siamo sia i mercati sia la speculazione siamo noi operatori molti forse non sanno che quando un'agenzia di rating declassa un paese in automatico attenzione in automatico i computer cominciano a vendere tutti i titoli di quel paese in automatico quindi avere la AAA è una cosa fondamentale ma attenzione alle agenzie di rating sono collegati i grandi fondi di investimento americani forse pochi hanno fatto caso quest'estate quando a me era il momento più difficile della crisi che le borse europee difficilmente cadevano la mattina cadevano verso le 3 le 4 del pomeriggio dopo l'apertura di Wall Street quindi questo è il primo livello che va assolutamente arrivi al secondo perché sennò ci mandano in pubblicità il secondo è la crescita in Italia allora ora basta col seguire necessariamente i compiti a casa che ci impongono alcuni paesi che hanno il solo interesse di farci fare i compiti a casa poi se avremo tempo spero meglio anche l'ottica in buona fede di Monti e cominciare a dare delle politiche autonome assolutamente delle politiche autonome che riguardano i singoli paesi europei quindi dopo la pubblicità ci dice quello che che voleva ci proviamo andiamo in pubblicità poi c'è Paolo Sottocorona le vostre domande e l'occasione per gli ospiti di aggiungere qualcosa allora è anche una vecchia questione però assodato che il tempo bello per convenzione quando c'è il sole il tempo brutto quando piove che bello non è sempre buono e brutto non è sempre cattivo perché la pioggia serve la giornata di ieri è cominciata male perché pioveva e è finita bene perché si era rasserenata quella di oggi comincia bene perché in questo momento il tempo è più che buono e finisce tra virgolette male perché ecco qua questa è l'ultima immagine dal satellite sull'Italia ormai di nuvole ce ne sono poche quelle che ancora questa mattina interessavano parte del nord se ne sono andate queste che si stanno cioè non dico formando ma si stanno veramente organizzando spesso in meteorologia usiamo un linguaggio militaresco l'invasione l'irruzione è un po' esagerato però il fronte il fronte freddo però in realtà qui si stanno organizzando come delle truppe perché qui si sta abbassando la pressione e questa bassa pressione domani la troveremo sul tirreno con tutto quello che comporta tutte queste nuvole si sposteranno qui quindi è diciamo dal al centro sud che mira questo questo maltempo mentre la scorsa passata aveva preso il centro nord e saranno prima le isole maggiori e poi da qui il tempo peggiorerà in maniera abbastanza marcata la previsione per la giornata di oggi dava inizialmente ma avevamo detto erano proprio le ultime le ultime piogge vediamo la previsione per oggi vedete le ultime piogge già col sole sui versanti adriatici sulle zone di nord-est ormai già finite e avevamo indicato a ovest qualche nuvole in più proprio perché da lì arriva questo questo peggioramento calcolate che si comincia a coprire dal pomeriggio a partire dalle isole maggiori la previsione per domani ci dà già una situazione come dire terminata peggioramento terminato i temporali o piogge comunque consistenti che entrano proprio da questa porta fra Sicilia e Sardegna poi dal pomeriggio in poi arriveranno anche sul medio versante tirrenico mentre vedete che le zone ioniche il versante adriatico e il nord avrà delle piogge ma inizialmente meno insistenti meno forti quindi più difficile che ci siano temporali però è un maltempo diffuso giornata di sabato comincia a passare perché sabato il centro il nucleo di questo maltempo dal tirreno si sposterà sull'adriatico ed ecco che si aprono delle schiarite sulle zone di nord ovest Corsica e Sardegna ma sempre con qualche pioggia e i temporali tendono a essere più presenti sui versanti orientali perché il tutto si sposta questo dovrebbe potrebbe far pensare che domenica ci sarà un ulteriore ti sei nascota la testa questo lo hai imparato in realtà ci sarà un miglioramento parziale parziale perché sarà forse meglio di sabato ma ancora una giornata molto incerta ne parliamo domani temperature quelle diciamo di oggi le massime grazie al sole grazie ai venti che sono meridionali riportano delle zone gialle vi ricordo che il passaggio fra il verde e il giallo sono i 18 gradi quindi chi è in verde sa sotto i 18 quanto poi insomma si vedrà però riappare qualche zona gialla quella soffiata calda che ieri avevamo visto sul tirreno meridionale si è spostata verso est e per avere un'idea le massime previste per la giornata di domani col maltempo si ritorna praticamente quasi ovunque al verde perché è chiaro non è aria fredda quella che arriva ma se piove tutto il giorno non è che fa 18 19 20 gradi più facile ne faccio a 13 14 o 15 soltanto vedete grosso modo intorno alla Sicilia c'è quest'altra soffiata quest'altra onda calda che anche lei resterà bassa cioè resterà a sud e se ne andrà quindi tu sai che io domani mi collego dalla Sicilia diciamo una cosa positiva non farà troppo caldo annaggia è spiritoso il nostro sottocorona allora guidi a ragione dunque l'ho preciso per il professor di Taranto gli spettatori ci scrivono ci pongono delle domande o fanno delle osservazioni noi rispondiamo quindi dobbiamo rispondere velocemente perché altrimenti non riusciamo a leggere tutte le cose che ci scrivono ci proviamo guidi a ragione il costo del lavoro non permette l'entrata di capitali esteri oltre ad uno stato inefficiente che non garantisce sviluppo e si è delocalizzato fuori il made in Italy quali posti di lavoro può creare questo è Carlo Cappello tra l'altro nel corso della pausa facciamo una valutazione su questa storia della tassazione che non è uguale negli altri paesi noi siamo al 60% qualcuno dice 68% Romania è il 16% Croazia 15% Serbia il 10% Germania? sono curiosa professore lo sa ma dipende dal da che cosa è scaricabile rispetto al nostro quasi 68% ormai l'Ox ha calcolato che la media europea è inferiore di 20 punti e la Germania ancora di 15% quindi è ovvio che sia molto più competitiva rispetto a noi ho l'impressione che il mercato vede ai politici italiani come Manzoni descriveva i capponi di Renzo vai te li ricordi i capponi di Renzo? sì Renzo camminava diretto alla casa del dottore Azzecca Carbugli portando in mano legati con uno spago due capponi da regalare all'avvocato i due capponi non destinati ad un felice futuro non sapevano fare altro che beccarsi a vicenda esattamente come fanno i nostri baldi politici De Manzoni l'immagine insomma mette un po' di tristezza una citazione colta ma abbastanza pesante è abbastanza pesante sì alle volte però si fa un po' di demagogia su questo è normale che poi la politica serve a questo avere visioni diverse delle cose della vita il problema è vero è che siamo anche in una fase di sospensione della politica continuiamo a prendercela con i politici ma in questo momento siamo governati dai tecnici forse dovremmo concentrarci di più su quello che stanno facendo i tecnici in questo momento sì poi c'è anche un altro tema che siccome la politica in questi giorni è al centro diciamo delle cronache per questioni non esattamente edificanti allora si finisce col pensare che sia tutto uguale che anche quello dal mio punto di vista è molto pericoloso cioè questo è un momento complicato secondo me per il paese volevo no no se posso perché io sono molto d'accordo su quello che diceva il vice direttore è il direttore di Libero senza dubbi aggredire lo stock di debito vendendo quello che ci può vendere io molto sommessamente non so se lui il direttore si è d'accordo con me ci metterei dentro anche magari le fondazioni bancarie che potrebbero essere che potrebbero servire visto cosa servono e il debito pubblico il problema fondamentale però è il costo dello Stato quindi bisogna che ci sia qualcuno che sia Monti che sia qualcun altro che cominciando dal Parlamento non sono i 12 mila euro o 13 al mese bisogna tagliare con l'accetta la struttura dello Stato partendo dal Parlamento le regioni le province i comuni le comunità montane ma tagliandolo con l'accetta al 50% io non riesco a capire perché ci siano dipendenti privati che vanno in cassa integrazione e dipendenti pubblici che guadagnano più di un imprenditore oggi quasi di un piccolo imprenditore e non vanno in cassa integrazione cioè bisogna ridurre del 50% il costo dello Stato o per i quali non si applica l'articolo 18 diciamo ce ne sono tanti la spesa corrente altrimenti noi non ci salteremo mai fuori non riusciremo a ridurre le tasse e se non riduciamo il livello di tassazione questo paese non si riprende più allora suggerimenti si potrebbe pagare il debito pubblico con i tesori che l'Italia possiede esempi statue quadri tipo il satiro danzante il David di Donatello e così via oppure utilizzare i tesori dei santi patroni delle città faccio questo esempio San Gennaro e Santa Rosalia che ci dice Salvatore Arena sono i più ricchi e allora perché non affittare i loro tesori ai musei di tutto il mondo per poter pagare il debito pubblico visto che questi tesori appartengono al popolo italiano l'hanno presa sul serio De Manzoni cioè ci hanno preso sul serio gioielli di famiglia e allora anche quelli dei santi fin troppo non bisogna neanche esagerare c'è da incidere su altre cose prima che di arrivare a mettere in vendita le statue io sono d'accordo con le nostre miniere quelle allora c'è qualcuno che dice semplicemente e voglio citarlo Franco Sabatini c'è una sola soluzione la rivoluzione siccome quando ho letto la mail a voce alta qualcuno in studio mi ha detto d'accordo facciamo la rivoluzione ve la leggo e poi invece e qui io semplicemente leggo probabilmente anche sbagliando perché proprio mi è incomprensibile questa mail che ci manda Paolo Latorre e chiede al professore ma perché nessuno dice che lo spread aritmetico non ha senso io mi sono già persa spread aritmetico già non so cosa significhi vale lo spread medio ponderato in pratica con il volume d'affari e ci sono una serie di punti esclamativi poi provate a chiedere come si influenza lo spread in una giornata di scarso volume d'affari Berlusconi stesso in un giorno di basso volume d'affari lo potrebbe influenzare e finisco lo spread indica la tendenza non la perdita per lo Stato per lo Stato valgono i valori delle emissioni assieme al valore dei BTP emessi io ho paurissima di questa mail mi dica qualcosa ci spieghi che vuol dire credo che si riferisca in particolare ai giorni delle emissioni dei titoli da parte dei singoli stati lei sa che lo spread riguarda sostanzialmente il mercato secondario non il primario mi spiego la BCE può fare operazioni di acquisto titoli come ha fatto tante volte ma sul mercato secondario non direttamente sul mercato all'emissione sul mercato primario quindi questo è sicuramente vero però ahimè nulla toglie al problema relativamente alla quantità di operazioni fatte lo spread aritmetico non ha senso? non è che non ha senso bisognerebbe capire esattamente cosa intende per spread aritmetico vale lo spread medio ponderato con il volume d'affari esatto perciò parlavo del volume di affari cioè è evidente che lo spread è più significativo nei giorni in cui la banca centrale europea acquista titoli però è più significativo sotto l'aspetto quantitativo lo è molto meno sotto l'aspetto qualitativo e mi spiego è evidente che lo spread anche italiano tende a scendere quel giorno perché c'è un aiuto che viene dall'esterno allora forse è molto più importante vedere lo spread nei giorni di normalità in cui non ci sono né emissioni di titoli né interventi da parte della banca centrale insomma lei si sente di dire a Paolo la torre che quel grafico non è influenzato in nessun modo da questa mail cioè che resta tutta la validità del grafico anche se lo spread aritmetico non ha senso la validità di quel grafico adesso io imparo questa frase noi lo ripetiamo tutte le puntate in apertura lo spread aritmetico non ha senso perché io scusate su questo grafico l'unica cosa che avrei pensato di dire è che confrontiamo periodi diversi quindi non è una media realmente ponderata ripeto che non è mio il grafico ripeto no voglio dire professore una cosa scusate allora se queste fossero temperature per far capire in maniera semplice come facciamo a confrontarle se qui siamo in inverno e qui siamo in estate dobbiamo sapere che periodo è questo e stiamo a seguire questo è un periodo non di crisi non mi andate a prendere il valore della cosa l'abbiamo chiesto era 120 giorni prima ti sei preso questo passato ho capito che è preso tot prima e tot dopo però qui si parte è a seguire Paolo è a seguire è a seguire però si prendono periodi in cui non c'era crisi ma no è il periodo di maggior crisi è quello in cui è caduto il governo Berlusconi per la crisi quindi più di così era difficile ma la media di questo parte da 200 capito che voglio dire sono i 120 giorni in cui si realizza la crisi arriva immediatamente poi a 300 parte da 200 sa perché perché da 200 anzi al di sotto del 200 era il livello medio senza crisi lì parte esattamente ma le piccole più il livello di crisi se vogliamo metterlo in questa maniera è diverso in questo periodo piuttosto che in questo o piuttosto che in questo ecco perché mi perdoni per spiegarmi andrebbe ponderato per spiegarmi meglio il grafico non è mio per spiegarmi meglio no no ma certo quando si arriverà a 250 giorni del governo Monti mi perdoni arriveremo qui d'accordo e arriveremo qui tra l'altro questo sa che significherà che si abbasserà ancora di più perché lì era più bassa appunto si passa secondo me è una crisi da qualche anno di maggior crisi per entrambi i governi di maggior crisi tant'è vero che come vede noi qui di fatto siamo già a giugno-agosto quindi di fatto qui questo è tutto agosto è proprio il periodo in cui arriviamo fino fino a novembre da novembre purtroppo la media dello speduto noi la invitiamo tutti i giorni lei ogni giorno ci porta un grafico così è contenta anche sotto corona e ci mettiamo qui facciamo l'angolo del grafico adesso io vedo di organizzarla questa cosa allora grazie ai nostri ospiti per essere stati a Coffee Break grazie davvero e con sotto corona e vai ci ritroviamo domani mattina come sempre arrivederci a domani